È stata una gara ben giocata da parte vostra, perché non avete accesso nulla all'inizio e l'avete colpito nel miglior momento. La tua gara di lettura è stata più un merito vostro, magari trasferendo qualcosa di più dal preciso di una notte. Io penso che siamo partiti bene dal primo minuto, abbiamo fatto una grandissima partita sotto tutti i punti di vista, sia in fase difensiva che in fase offensiva, che diciamo che era quello che ci stava mancando ultimamente. Il gol, siamo contenti, l'abbiamo trovato in un momento in cui loro erano un po' in sofferenza e poi abbiamo fatto il secondo, quindi siamo contenti e ora pensiamo a potenza. Francesco Giudice, la casa di C, sei d'accordo con me di definire questa vittoria nel canale in toccasare, sia per il vostro umore che per quello della dimoseria? Sì, questa vittoria ci deve dare ancora più determinazione e voglia di far bene per le prossime gare. Diciamo, come ho detto prima, deve essere un punto di partenza per giocare bene anche le prossime gare. Buonasera, al di là degli aspetti tecnico-tattici, da questa partita emerge una squadra molto unita, che ha saputo superare il problema di domenica scorsa, della sconfitta e soprattutto unita anche nei confronti del vostro avventurato. Sì, come ho detto prima, in settimana abbiamo parlato più volte che questa partita era importante per noi, per cercare di dare una svolta, soprattutto anche per la scorsa gara che non è andata bene, quindi siamo contenti e va bene così.